Salve a tutti, oggi vi faccio una breve dimostrazione del nostro software per realizzare sculture da immagini il software è in fase di rilascio, è veramente a breve prima di rilasciarlo volevo realizzare questo video che facesse un po' da dimostrazione del software stesso quindi vi farò vedere tutte le sue funzioni così uno può valutare l'acquisto allora questa è una scultura che ho realizzato in questo istante prima di appunto registrare ci ho messo veramente un attimo come vedete sulla destra c'è la foto che ho caricato dato dei parametri di profondità, dettaglio e levigatura poi vi farò vedere con calma ogni funzione e questo è il risultato quindi veramente non ho toccato nulla e il risultato è impressionante tra l'altro ora vi faccio anche vedere come ho realizzato queste immagini perché il software permette di caricare qualsiasi tipo di immagine ad esempio potete fare una foto del genere ad una scultura che possa essere un capitello, un freggio, una rosa e il programma ve lo restituirà uguale senza proprio come ricalco ecco appunto potete anche realizzare voi a mano delle sculture non so se avete degli scultori e poi potete da una semplice foto fare appunto la scultura però la cosa molto molto interessante è che potete usare l'intelligenza artificiale come ho fatto io in questo caso usando Bing Image Creator diciamo mettendo degli input di cosa si vuole realizzare ad esempio in questo caso ho fatto un'immagine religiosa di Sant'Antonio e adesso vi faccio vedere come uscirà questa immagine ora proprio vi faccio vedere passo per passo quale potrebbe essere appunto l'effetto che uno potrebbe aspettarsi da un'immagine del genere qui abbiamo i valori di qualità dell'immagine che possiamo andare a generare dalla scultura ovviamente metto ultra per farvi vedere il massimo proprio che si potrebbe ottenere qui abbiamo la scala di profondità che va praticamente a gestire quanto spessore vogliamo dare qui abbiamo il dettaglio il fattore semplificazione va semplicemente ad abbassare la quantità di poligoni se vogliamo rendere il modello più leggero ma già che abbiamo l'ottimizzazione dei poligoni attiva come vedete la mesh già è molto ottimizzata perché praticamente va a creare densità dei poligoni solo dove c'è appunto più dettaglio lasciando la parte più piana meno densa e quindi abbiamo un modello che non è neanche tanto pesante immaginate un modello del genere non pesa nemmeno 35 mega 30-35 mega comunque andiamo a iniziare la generazione di questa foto che impiegherà ovviamente a seconda della qualità che uno seleziona tra i 7-10 minuti per la realizzazione la prima realizzazione ovviamente impiega di più perché va a fare il calcolo diciamo di tutte le profondità l'acquisizione del dettaglio quindi metto in pausa e poi ci vediamo alla fine della generazione ok la generazione è appena terminata e questo è il risultato come vedete è venuta praticamente uguale alla foto abbiamo una scultura che è pronta ad essere fresata sotto la macchina cioè il risultato è impressionante però comunque possiamo andare a manipolare ancora e ottenere diciamo una gestione del modello come vogliamo perché c'è un po' di lavoro da fare allora la prima cosa che farei andrei a togliere questo piano che appunto sporge perché effettivamente nella foto c'è questo piano che sporge e il software l'ha interpretato in modo eccellente quindi usiamo la funzione limita z così vi faccio capire anche cosa fa va ad alzare il piano in modo tale da poter togliere questo tra virgolette difetto interpretatelo come volete comunque in questo caso è un difetto perché occorrerebbe troppo spessore quindi andiamo a correggerlo e a limitare appunto il piano ok allora come vedete la differenza è si capisce da subito abbiamo tolto quello spessore e anche qui un po' di spessore che avevamo qua mantenendo attenzione il dettaglio cioè il dettaglio e lo spessore nelle mani nella bocca, nella faccia è uguale è invariato quello che toglie appunto è lo spessore nello sfondo che era indesiderato in questo caso infatti qui abbiamo un po' esagerato e è andato a pizzicare un po' queste rose quindi volendo togliamo e mettiamo giusto un pelino in meno così andiamo a ripristinare queste rose però in questo caso ora non vado a rigenerare perché non mi interessa allora poi ovviamente abbiamo anche i pennelli quindi volendo potete fare un po' di scultura se avete un po' di manualità ad esempio qui abbiamo appunto forse un pochettino in realtà no vabbè va bene però possiamo andare a appunto a a livellare un po' questo questa parte qua perché appunto qui il naso era un po' più in alto e possiamo appunto livellare anche gli occhi così e diciamo che c'è forse questa parte ancora un po' deve salire facciamo scendere questa parte qua e più o meno ci siamo ecco allora la parte che vi volevo far vedere adesso è la funzione ottimizza Z perché come vedete qui abbiamo questo libro che giustamente come appunto da foto sporge verso fuori possiamo andare assolutamente a togliere questo difetto utilizzando la funzione ottimizza profondità che praticamente va a appunto ad individuare queste parti molto sporgenti e le va a livellare senza perdere dettaglio quindi ecco come vedete già il libro si è si è incastonato un po' più dentro mantenendo tutto il resto intatto perché magari uno cosa potrebbe fare potrebbe scalare la Z per poter appunto andare a togliere questo difetto però non è una diciamo una scelta valida perché poi si toglierebbe dettaglio ovunque mentre con questa funzione che è appunto sviluppata da noi voi potete andare a isolare queste parti troppo alte e andarle a livellare insieme al resto mantenendo comunque una buona profondità ovunque quindi qui ci siamo e questo è il risultato finale poi possiamo anche andare a rimuovere il piano volendo se si vuole ma in questo caso a me non importa possiamo andare a mettere delle texture magari fate la foto a delle lastre che avete di legno o marmo qualsiasi sia il materiale ad esempio tipo questo materiale qua oppure qualcosa un po' più tipo questo qui possiamo quindi appunto vedere il risultato anche sul nostro materiale poi possiamo esportare ovviamente il modello e questo è il risultato come vedete in neanche cinque minuti abbiamo realizzato questa scultura che è molto molto bella facendo dal nulla perché comunque abbiamo realizzato il tutto dall'intelligenza artificiale ovviamente possiamo anche utilizzare delle foto che noi abbiamo dei modelli facciamo una foto di una scultura e il software la va a interpretare in modo diciamo uguale questo è tutto non penso ci sia altro sì forse ci sta qualche altra cosa ma magari lo riservo per qualche altro video quando il software sarà appunto rilasciato se avete diciamo se volete chiedere informazioni potete chiedere in privato non c'è problema e niente io vi lascio e vi auguro una buona giornata grazie a tutti